Buon pomeriggio a tutti, possiamo iniziare. Sky Sport, Angelo Mangiante. Eccoci, buongiorno. Ho visto che nella sua carriera ha già vissuto 119 derby in quattro nazioni differenti. Allora le chiedo questo, la prima volta del derby a Roma, come se lo immagina e come si immagina, ma soprattutto che atteggiamento vorrà dalla sua squadra considerando che nell'immaginario collettivo dei tifosi questa è la partita più importante dell'anno. I numeri? Solo voi lo sapete perché io non lo so. Come ho detto prima anche le mille panchine, io solo ho saputo perché Stampa ha iniziato a parlare quando mancavano 5 o 6. 100 derby, più di 100 derby. 119. Sono tutte le partite belle da giocare, partite che non preoccupano un allenatore, non preoccupano perché non bisogna motivare, non bisogna stare attento con i giocatori più o meno concentrati. Sono partite che sono belle da giocare e sono anche belle di preparare perché non esistono questi tipi di problemi. Magari contro l'Udinese un po' di preoccupazione. La gente pensa più all'Udinese o pensa più al derby, questo tipo di situazione. quando tu giochi al derby non esiste perché la gente ovviamente sta al 100% nella partita. In questo senso è bello da giocare, è bello da preparare. Chi mi aspetta della mia squadra aspetta esattamente quello che dico dal primo giorno. Giochiamo per vincere, sappiamo che non possiamo vincere sempre, sappiamo che dall'altro lato c'è sempre una squadra che ha le stesse ambizioni di noi. però l'atteggiamento che voglio è lo stesso di sempre. Vogliamo vincere e quando non vinciamo voglio uscire dal campo con la sensazione che i ragazzi hanno dato tutto. E' questo che mi aspetta. La Gazzetta dello Sport, Cecchini. Buongiorno mister, mi collego a quello che ha detto Angelo. Parlando con lei si ha molto a che fare con la storia. Prima si parlava delle mille panchine, adesso dei 119 derby. Nella scorsa conferenza lei aveva detto di non essere obbligati a nulla se non a vincere la prossima partita e come società. La società dal proprio punto di vista al fine mercato ha sottolineato come la Roma sia stata la squadra che ha investito di più sul mercato o ha investito quasi 80 milioni, una cifra importante. In questi giorni di archivi, vedendo il suo passato, vedendo le sue cose, ho avuto la cognizione, guardando un po' le sue squadre degli ultimi 20 anni, diciamo dal porto del 2004 in poi, che forse la Roma attuale è la squadra meno talentuosa che lei ha allenato, meno forte, non so che dire, almeno meno pronta rispetto alle altre degli ultimi 20 anni. Crede che questa sia una delle sfide più importanti della sua carriera, costruire con il tempo giusto una squadra vincente qui a Roma? Una sfida diversa, una sfida diversa e una sfida senza dubbi. Quando abbiamo parlato per prima volta, dal primo minuto, io con il direttore, con proprietà, nessuno dubbio. Sappiamo perfettamente dove siamo, dove vogliamo andare, come vogliamo andare. È senza dubbi. Io ho avuto già delle squadre prima con qualche dubbio, con qualche dubbio. Qui non esistono dubbi. E come non esistono dubbi, non è la squadra più difficile. Non è la squadra più difficile. È la sfida più difficile. Maida, un giro dello sport. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Dall'alto della sua esperienza anche in fatto di derby, perché ne ha giocati un po' ovunque, in Italia, in Inghilterra, eccetera. Lei si colloca più sulla versione Zemaniana del derby, cioè che comunque è una partita da tre punti come le altre, o più in quella dimensione alla Garzia che un derby non si gioca, si vince? C'è un suo slogan o comunque un suo motto per questa partita speciale? No, no. Rispetto al signor Zeman, rispetto a Rudy, però non vado a commentare le sue parole, né a dire che mi identifico più con un'altra. Penso che il più importante è parlare poco e giocare tanto. Tutto quello che tu puoi dire prima della partita, non so come si dice in italiano, però le parole possono andare con il vento. Perché parlare? Perché dire che facciamo questo, facciamo l'altro, andiamo, mangiamo. Perché? È quello che l'esperienza mi dice. È là, è l'ora della verità, è là. No, qui. Qui, io sono qui, è un obbligo per voi, è rispetto per voi, è rispetto per la gente che guarda voi, che sente voi, che legge voi. Però parole sono parole di circostanze, parole domani, là, là dentro, dal primo minuto. Valdiserri, il Corriere della Sera. Buonasera. Ciao, buonasera. Pellegrini mancherà e mi sembra che si noti molto l'assenza, i golfatti, gli assist, eccetera. Però credo che sia altrettanto importante il lavoro che Pellegrini fa in fase difensiva. E mi sembra che lei spesso lo schieri quasi da secondo attaccante. Insomma, diciamo, un uomo più avanzato insieme ad Abram, proprio per andare a chiudere le fonti di gioco avversari. C'è un giocatore nella sua squadra che ha queste caratteristiche, che può davvero fare il doppio lavoro che fa Pellegrini? O comunque vada, dovrà essere una soluzione un po' arrangiata? Pellegrini c'è solo uno. Io non volevo parlare su di questo, però tu sei arrivato con il suo nome e per me non è facile parlare di Pellegrini in queste circostanze. Io potevo anche dire che questa partita di domani si è iniziata a giocare al novantesimo della partita contro Udinese. Perché avere Pellegrini è una cosa e non avere Pellegrini è un'altra cosa. Tu hai toccato in diversi punti, offensivo, difensivo, come pressa. Possiamo analizzare tutto quello che lui rappresenta per noi dal punto di vista del calcio puro, crudo. Però potevamo anche andare dal punto di vista della leadership, di trascinare, di comunicazione, di fare molto molto bene il capitano. Non c'è Pellegrini. Penso anche che la tua domanda vuole arrivare a chi gioca e chi non gioca, come giocheremo, come cercheremo di trovare una soluzione. ma non vi dico. Di un modo molto onesto non commento perché non dirò come giocare e chi gioca può giocare. Pastore, il romanista. Buongiorno. Ciao, ciao. Ha parlato spesso di empatia fra squadra e pubblico. Quale pensa possa essere l'apporto dei tifosi romanisti rispetto alle piazze in cui ha vissuto gli altri derby? Che atmosfera sta vivendo in città in queste ore? Guarda, questa settimana quello che mi ha colpito di più è il modo come la gente è stata con la squadra prima di Udinese e dopo sconfitta. questo per me è lo più importante, è quello che mi dice sì c'è empatia. Perché l'empatia dopo vittoria, vittoria, vittoria è un'empatia qualche volta artificiale, un'empatia che qualche volta va via con un risultato negativo. Abbiamo perso, abbiamo neanche giocato bene. e per strada, con il Pullman fino ad arrivare allo stadio, nello stadio, nel momento difficile della partita, con uno di meno, con cinque minuti di più per giocare, con il risultato a rischio. È lì che si sente questa empatia. Penso che i tifosi meritano tutto da noi, però anche che i ragazzi meritano tutti da loro. E in questo momento questo esiste. Loro stanno a dare ai ragazzi quello che loro meritano. i ragazzi ogni minuto in campo, giocando bene, giocando male, vince, perde. I ragazzi stanno rispettando la passione che la gente ha. e questo al cento per cento quasi direbbe io, che non puoi mai dire cento per cento nel calcio, però io quasi direbbe al cento per cento i tifosi sentiranno domani che la squadra gioca per la nostra professionalità, ovviamente, però che gioca anche per la loro passione. Zotti, il tempo. Nel 2010 lei ha vinto lo scudetto con l'Inter, anche grazie a una vittoria contro la Lazio, passata alla storia perché i tifosi bianco-celesti hanno chiesto letteralmente alla squadra di scansarsi. Le volevo chiedere in oltre mille panchine in carriera. Le era mai capitato di trovare dei tifosi che chiedessero alla squadra di perdere? E se da quell'episodio ha capito veramente che cos'è la rivalità, come viene sentita la rivalità tra Roma e Lazio qui a Roma? Sono qui da pochi mesi, devo vivere di più, devo capire di più al dettaglio delle cose, che una cosa è sentire, un'altra cosa sentire, un'altra cosa è veramente essere dentro e capire tutto. Però la rivalità è una cosa bella al cento per cento. Se si allena il Real Madrid, il Barcellona non è campione, sicuramente chi vuole l'Atletico di Madrid o l'Atletico di Bilbao per vincere il campionato. Se sei in Portugale o allena il Porto, se il Benfica non può vincere il campionato, sicuramente il Benfica preferisce un'altra squadra per vincere chi non è il Porto. Questo è la normalità della bella rivalità. E' per questo che dico, mi piace tanto giocare al derby. Il privilegio di giocare uno in più, il privilegio di giocare un nuovo che non ho mai giocato. Il privilegio di essere più ricco dopo questa esperienza, di capire veramente quello che è Roma-Lasio e Lazio-Roma. Però al di là del derby, di quello che può significare il derby, io voglio che la mia squadra ha più ambizione di vincere un derby. Per me non è l'unico obiettivo di una stagione. Come te la ricorda? Sì, mi ricordo. Come te la ricorda? Mi ricordo che abbiamo vinto 2-0 e mi ricordo ovviamente perché era una cosa che tu potevi sentire dalla parte dei tifosi Laziale che non erano in appoggio alla sua squadra. Questa è una cosa che tu senti. Però mi sembra che l'Inter ha vinto lì, come ha vinto tante partite in quella stagione lì. Vinci la Repubblica. Salve mister. Salve. Lei fino a poco tempo fa passava per essere un po' quello antipatico, no? Spesso le capitava di litigare anche con qualche... Aspetta un po'. Più o meno vado a parare lì. Ogni tanto litigava con qualche collega anche insomma che è normale, succede anche a noi. No, io le dico sicuro eh. Aspetta un po' chi arriverà, sicuro. Adesso però con molti colleghi vedo che invece si creano splendidi rapporti. Penso a Dionisia, italiano ha speso parole molto belle anche per loro. Le volevo chiedere se è cambiato il suo modo di comunicare o se magari pensa che gli avversari abbiano un pochino meno paura di lei. Perché magari non guida la squadra più forte. Però dimmi un motivo per in questi due mesi che sono qui, dimmi un motivo per io litigare con qualcuno. Dammi un motivo che ancora non mi è arrivato. L'unica cosa che veramente mi ha dato un feeling molto molto negativo è stata l'espulsione dei pellegrini. però è già la rossa lì che faccio. Vado a litigare con l'arbitro e dopo l'arbitro mi manda via a me e dopo domani non posso stare in panchina. controlla l'emozione, controlla la frustrazione. Va dentro. Quando vai a stampa già vai un po' più freddo. Tranquillo. Quando la situazione arriverà di un modo naturale e automatico però non devo essere io a cercare di litigare con la gente. perché io rispetto, la gente mi rispetta. Avversari, allenatori, giocatori, arbitri. Quello lì è un ragazzo giovane, ha fatto cagata. Vai, la prossima volta farà meglio. Avrà il suo allenatore, Rocky, che sicuramente con la sua esperienza li può aiutare a migliorare. Non c'è motivo per litigare con nessuno. Juric, Rete Sport. Eccoci. Buon pomeriggio, mister. A te. Ho guardato il suo primo Tottenham, le scelte che ha fatto, e nelle prime sette partite lei ha utilizzato dal primo minuto 13 giocatori, con solo Wings e Dyer che si sono alternati. Alla Roma sta utilizzando la stessa metodologia, cioè formando un gruppo di 11-12 calciatori che partono dal primo minuto. Le chiedo intanto qual è la motivazione, se per caso quella di creare un gruppo stabile all'interno della Rosa, ma soprattutto che cosa devono fare le seconde linee, quelli che si trovano in panchina, per far sì che possano guadagnare il posto. Mi viene in mente gli input che lei sta dando, soprattutto nelle ultime due partite, ad alcuni giocatori in panchina o a Riccardo Calafiori con le dichiarazioni. Grazie. Io non vado a litigare con lui. Non vado a litigare con te. Però la domanda che tu mi fai, sarebbe la stessa domanda, contrario, magari non tu, però uno degli altri. Se io faccio giocare, vinte giocatori, e se un giorno gioca, questo è sì, un altro giorno cambio, cambio, cambio. L'altro giorno cambio, cambio, cambio. La domanda sarebbe la stessa, perché hai ragione mister? Tu non punti su stabilità, dinamica, perché quando tu cambia troppo è molto più difficile per la gente trovare dinamica, automatismo. C'è sempre questo. Quando la gente va nella direzione di stabilità, inizio di stagione, non ancora stanchezza, non ancora limiti fisici, punta su stabilità e dopo arriverà il momento di fare più rotazione, più turnover. Altra gente va dall'altro lato. Sono opzioni, la mia opzione è un'opzione ovvia, è un'opzione ovvia. Sono arrivato, giochiamo diverso da prima, abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di fiducia. Tanta gente, della gente che non sta giocando, è gente molto molto giovane, è gente che anche loro ha bisogno di tempo, non è gente che sta preparatissima per entrare diretto subito nella squadra, non è. È gente che ha bisogno di più tempo, di più stabilità. Mi sembra un processo assolutamente normale. Buon pomeriggio mister, sia la Roma che la Lazio scendono in campo spesso con delle formazioni piuttosto offensive. Le volevo chiedere se per la partita di domani secondo lei servirà più il coraggio di attaccare, magari anche con un pizzico di spregiudicatezza, o più attenzione a difendere per non rischiare in fase difensiva. Grazie. È la globalità della partita. Con palla vogliamo giocare, con palla vogliamo aggredire, con palla vogliamo segnare se possiamo. Senza palla si deve rispettare. Si deve rispettare una squadra di qualità, con giocatori di qualità, con un modo offensivo di pensare il gioco. Bisogna difendere. È molto difficile vincere una partita. Se sei bravo è una fase di gioco e si dimentica di lavorare forte nell'altra fase. Per vincere domani bisogna una partita molto completa. Molto completa. Perché giochiamo contro una squadra di qualità. Facciamo l'ultima. Carboni, Centrosuono Sport. A proposito di quello che ha detto il mister sull'avversario, ha affrontato una squadra che difende pressando alto in maniera molto collettiva. Però è capitato, magari con l'Empoli, con il Milan in passate partite, che questa pressione venisse saltata e si aprisse molto campo per andare a fare gol. Le chiedo quanto sarà importante domani saper giocare sotto pressione e se sta pensando a qualcosa per dare un po' di solidità alla sua uscita. Palla. È una buona domanda, però il tipo di domanda è che non mi piace rispondere. Perché rispondere è toccare in punti chiave. Tu hai analizzato qualità, modo di giocare, filosofia di gioco del nostro avversario. Tu lo hai analizzato in un modo molto veloce, però bravo. Per parlare di quello che noi vogliamo fare. Io non vado più di là di dire il più basico, il più obiettivo, che è che con palla vogliamo segnare, senza palla vogliamo difendere bene perché è una squadra di qualità. Grazie. Scusate, però io dovevo parlare prima e non dopo. È un momento difficile per la famiglia Zalewski, non solo per Nico, ma per la famiglia. In questo momento ovviamente tutti con lui. vediamo domani, però sarà una decisione sua se sta per giocare o no. perché è importante che sia lui a decidere di accordo con il suo modo di, non di sentire, però di iniziare a convivere con un mondo nuovo per lui, che è un mondo senza il suo papà. Io lo voglio per domani, non posso nascondere, lo voglio per domani, però vediamo quello che dice lui. E come voi avete dimenticato la domanda chiave, Vigna sì o Vigna no, io penso Vigna sì. Grazie. 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 Grazie.